Un contributo di 500 mila euro per l'anno 2019 per le quattro province abruzzesi destinato allo sfalcio delle erbe. E' quanto previsto da un provvedimento che approderà domani in aula in occasione del Consiglio regionale dopo aver incassato il parere favorevole in commissione. Il finanziamento riguarda in particolare la manutenzione e la pulizia delle banchine delle strade provinciali con l'obiettivo di garantire e migliorare la sicurezza stradale. Il provvedimento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Consigliere regionale Luca De Renzis della Lega e il Capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa. Noi abbiamo una sensibilità particolare nei confronti delle province, nei confronti di un tema importante come lo sfalcio delle erbe. Io anche da ex Presidente della provincia so quanto possa essere importante per un ente ricevere un contributo che vada a risolvere un problema concreto come quello dello sfalcio delle erbe nel periodo estivo e quindi noi abbiamo utilizzato solamente un concetto di razionalità, abbiamo avuto la schiena dritta, abbiamo pensato alle cose utili per il nostro territorio. Penso che questo contributo che sappiamo non va a risolvere i problemi di ogni provincia però da un minimo di ossigeno importante.